A te faccio apper Ciao ragazzi e ragazzi, io sono Sterminator e oggi siamo su Jammity Dash Oh, scusate veramente tanto se in questi giorni non ho fatto veramente video Però, scusatemi, è scoppiato uno così a caso Vabbè, scusatemi veramente Ma perché scoppia gente qua? Madonna, quello era bellissimo Allora, veramente, chiedo delle scuse però Però, li faccio ai video, non è che mi sono dimenticato Basta scoppiare, non è che mi sono dimenticato Vabbè, oggi siamo su Jammity Dash, non ho mai aperto Cioè, so come si gioca che... So come si gioca, però Che cacchio è una Sega, una Sega? Ok Che cacchio è, vabbè Ok, allora Allora, ho visto pochissimo da Youtube come si giocherebbe la stacca cacata Ecco E non so veramente Tutto bloccato, cioè tutto bloccato Allora, devo farmi il personaggio Ecco, è bellissimo, bellissimo Si può scrivere il nome? No? Vabbè, me lo tengo così Io ti chiamo Stefano Un nome inventatissimo Proprio Stefano Guarda, non lo... Manco io mi chiamo Stefano No, io mi chiamo Luca Ecco Non mi chiamo Stefano Eh, per l'amore di Dio Ok Allora, non c'è mai aperto proprio niente Allora, incominciamo Con voi, eh Incominciamo Perché cacchio I livelli sono già aperti 5%, 9% Ma ve lo giuro Ragazzi ve lo giuro Ve lo giuro Non ho mai aperto Non ho mai aperto sto gioco Ve lo giuro ragazzi Vabbè Comunque No, ve lo giuro Comunque Ci sono Che cacchio Ma io non so come si Vabbè Adesso scopriranno insieme Ehm Vi volevo dire anche una cosa Che Il volume Forse Vabbè L'avevo già detto Negli altri giochi Che il volume dei giochi Che faccio sempre Non vanno un cacchio E quindi Ogni livello che farò Ogni livello Poi farò altri episodi Ovvio Però ogni livello che farò Ehm Cioè Cambia la musca Cioè La metto io la musca Però Più figa no Di questa qua Tipo qua Una bella figa Allora Non ho mai aperto Allora Non so come Che anche Allora Ok Saltare Ok Qua tenere premuto Ok Va bene ragazzi Comunque Chi non sapesse Come si giocasse A sto gioco Praticamente Tu devi passare Da Un livello all'altro Ehm Senza toccare Sti triangolini Che praticamente Muori E praticamente Quando passi Da un livello all'altro Poi diventa molto più difficile Non è Ma c'è Allora Aspettate una Ci c'è la porta No perché Se io sono morto Come cacchio faccia Vincere un premio Un colore di Come Vabbè Allora Sono morto Già Al terzo Al terzo Quindi proprio Faccio veramente Cagare Sto giorno È vero Non ci ho mai aperto Niente Qua Però Avevo fatto anche Tipo Non mi accordo Però ancora Non avevo il canale Quindi Tipo Tu sei una palla E dici È come Giomitri d'Age Solo che sei Dritto No Non sei What the hell Madonna Cos'è Una renna di Bambino Che c'è sta roba Vabbè E Non so Non è più una Una supposa Vabbè Andiamo avanti Comunque non so Ma come Che faccio a morire Non so come Cacchio faccio Oh Cos'era quello Una moneta Mi compro Non so perché hanno Messo le monete E Veramente Non lo so C'è No 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 Ma 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 che c'è sta roba Oh Eccoci qua Bene Ecco bene Una fe Una fe E Dai oh Ce la facciamo No perché Non so perché Hanno messo Allora io ho scaricato Questo gioco La Gratuito Ovviamente Che c'è Anche c'era scritto Edizione con monete Qualcosa così E Poi C'è non so Ti comprerai le figurine Non è che Vabbè Comunque non ho capito Che cacchio è veramente Sta cosa Che sto cavalcando E Sembra più una supposta Quando Mi capita Spesso Quando vado in botta Però Non Non è Unissimo Non so che cacchio è Però Non è che me ne frega tanto Allora Qua c'è una Oh L'ho preso E adesso Ho vinto No Non ho vinto niente Però Vabbè L'ho preso Uno l'ho preso Sono contento Ehm Qua sono morto Dov'è che sono morto Allora Stesso punto di prima Porca Pesca Stesso punto di prima Ma se boh È il primo livello Porca Eva Il primo livello Mi sto morendo Il primo livello Che altri youtuber L'hanno fatto Di seguito Dai Ma vaffan gol Dai Oh ma non è possibile Allora Allora Madonna Ma basta Ma basta Ma Cos'è sta roba Ehm Allora Madonna 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 Dai eh Ma non si può andare Più veloce di così Ma va lentissimo Oh Madonna Per un attimo Ha saltato Poi che faccia Che faccia di merda C'è sto qua Cioè ho capito Che il mio personaggio Lo amo Però Una faccia di merda Ok dai Allora facciamo Sta parte qua Dai cavallo fatto Sì Tanto non mori Ma come fai a morire Questa qua Ah Ok Ah ok Si tocchi Si tocchi I triangolini Ho capito Ehm Va bene Dov'è che sono morto Che non potrei Incazzarmi Ah ma la moneta Non me la vengono salvata A pezzi di merda Ah proprio quando mori Ah beh in effetti Quando mori Oh Qua Sono morto Non posso mi dire No no È la fine È la fine Ragazzi Ragazzi È la fine Se muoio veramente Potrei C'era una moneta Però vabbè No 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 Dai No No Ragazzi No No Ehi Sono morendissimo Dai 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 No 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 Dov'è che sono morto Prima Dai ti prego Ma dai Ma non è possibile Che solo io Faccio Beh in effetti No Ma perché No basta Cambio a livello No Cambia Cambia Cambio a livello Cambia Non me ne frega niente Oh Non si può fare È il primo È il primo No ma io voglio provare Solo il 12 No Solo per così No Solo per vedere Va bene Basta Basta No 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 Mi sta bene Così Basta Ok Tutto bene Ok Ciao L'11 No Solo per così L'11 Già che ci sono le seghe Già È una merda Infatti Allora 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 Come Oh Sei Non vorrei Vabbè Bene Bene Ma perché Faccio sempre qua Basta 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 Ragazzi Io concludo qui il video Spero che il video È una merda È una merda Il 10 Il 10 Il 10 Il 10% Cos'è Cos'è Voglio solo vedere Oh Oh Sbaglio o cavalcavo un'asega adesso No prima No prima Va bene ragazzi Basta Basta Io continuerò nel prossimo episodio Perché questo Perché questo Non si può fare Il 2 Il 2 Voglio vedere il 2 No il 2 Solo per vedere così Cos'è Cos'è Basta Oh ragazzi Il primo Il primo livello Il 78% Ecco Fammelo Per la rabbia Il primo livello Il 78% Veramente Primo livello Primo Va bene ragazzi Direi di concludere Con il video Spero che il video Non vi sia piaciuto Se non vi è piaciuto Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Lasciate un dislike E noi ci vediamo Nel prossimo video Con sta merda No 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 Livello 1 Ma veramente livello 1 Non si scherza Non si scherza Ciao